Buonasera, benvenuti a tutti e tutti, immancabile anche oggi per chi era già venuto o venuta le scorse volte la pioggia, quindi apprezziamo perché vuol dire che tutto va secondo i piani, secondo le previsioni, questo è l'ultimo incontro di una serie che abbiamo organizzato con Livegate qui al circolo dei lettori che ci ha portato, diciamo così, ci ha collegato dalla COP28 di Dubai fino alle elezioni prossime che si terranno l'8 e il 9 giugno, elezioni europee che appunto riguarderanno l'Italia e altri 26 paesi che fanno parte dell'Unione, io sono Tommaso Perrone, direttore di Livegate, e insieme a me oggi ci sono due ospiti di tutto rispetto, nel senso che sono tra i massimi esperti d'Europa in Italia, in questo momento sono davvero felice e orgoglioso che voi siate qui oggi per parlare proprio di elezioni, soprattutto perché in questo momento in realtà le elezioni europee sembrano essere un po' snobbate, un pochino sotto traccia tra tante notizie di attualità e non solo italiane ed estere che ci inondano quotidianamente, le elezioni europee stanno un po' passando sotto silenzio ma in realtà la partita in gioco è davvero davvero alta, importante. È l'ultimo incontro, vi dicevo gli altri li potrete seguire a breve, differito ovviamente sui canali social del Circo, in particolare sul canale YouTube e per chi invece preferisce soltanto audio su Soundcloud che è appunto una piattaforma audio di streaming e appunto non mi resta che ringraziare ovviamente il Circolo e poi anche alla fine ci torneremo per averci ospitato e per aver accettato questa sfida perché parlare di clima in questo luogo ma in generale parlare di clima in Italia non è sempre facile e non è sempre popolare, quindi ringrazio voi che siete venuti oggi e chi di voi è venuto anche in passato. Parto a presentare gli ospiti, in particolare alla mia sinistra Maurizio Molinari che è capo dell'ufficio del Parlamento Europeo a Milano. Grazie Maurizio. Eccolo, grazie mille, grazie Tommaso. È un piacere essere qui. Giusto una piccola nota, se mi vedete col telefono è perché ho degli appunti sul telefono, non è perché mi sto facendo i cavoli miei. Grazie mille e invece alla mia destra Luciana Grosso che è una giornalista, autrice della newsletter La Spada nella Roccia ed è lì che peraltro ci siamo conosciuti. Ho dato per scontato che questo ciclo di quattro incontri è proprio ispirato alla newsletter Il Climateriano che curo da ormai quattro anni, quindi si parla di clima da tanto anche se non sembra e sei anche autrice di podcast da Percora Media, ne hai fatti due mi pare recentemente, giusto europei? Più altre cose, più un daily, più i contenuti di Will, insomma. L'ultimo è votare è facile se sai come fare, tra l'altro ho finanziato dalla Fondazione Intesa, quindi dalla Fondazione San Paolo, quindi insomma stai giocando in casa. Siamo in casa, siamo in casa. Quindi grazie di essere qui e io direi che partiamo subito perché il tempo è poco e rischiamo di andare lunghi. Quindi partirei subito da te Luciana, nel senso che appunto abbiamo fondamentalmente detto che in questo momento di elezioni europee si parla ben poco, anzi quei pochi spazi sono stati anche un po' diciamo così messi in discussione, non si faranno dibattiti almeno a livello nazionale, anche se dibattiti in realtà se ne stanno facendo in ambito europeo, magari poi se ci dici anche dove e perché si possono vedere questi dibattiti, se ci fai anche una sorta di campo, d'azione, cioè perché si svolgono, dove si svolgono, quando si svolgono, ma soprattutto perché dobbiamo andare a votare l'8 e il 9 giugno, perché fondamentalmente secondo me un po' di pubblica utilità in questo momento è necessaria più che mai, molti non sanno neanche che si vota. Posso fare l'avvocato del diavolo, Tommaso? Prima che parli Luciana, secondo me non è vero che si parla poco delle elezioni europee, possiamo discutere di come se ne parla e quello è, però noi vediamo che di queste elezioni europee del 2024 se ne parla di più, molto di più di quanto se ne parlava nel 2019, poi non so è magari una nostra percezione della bolla del Parlamento europeo, ma insomma io direi che veramente c'è una grossa questione di come se ne parla, non guardando anche telegiornali leggendo i giornali, mi sembra che insomma le elezioni europee siano nei radar delle persone. Luciana, te questo spunto. Sono d'accordissimo con lui, sia perché va detto il Parlamento, adesso sembra che ci stiamo scambiando cortesie e non è vero, però il Parlamento europeo quest'anno ha fatto una campagna enorme sulla comunicazione rispetto alle elezioni europee. Io ho una bellissima maglietta che ho rubato in una delle sedi del Parlamento europeo che era tra i gadget a disposizione e la campagna di sensibilizzazione rispetto a questo voto è stata enorme, quindi bisogna dare atto al Parlamento europeo di aver saputo tenere molto alta l'attenzione su questo voto, anche perché la vera sfida che si terrà nelle prossime settimane riguarderà l'affluenza. Dal 92 fino al 2019, dal 94 forse, fino al 2019 l'affluenza è stata inferiore al 50% l'affluenza europea. Poi in Italia siamo sempre stati un po' al di sopra della media perché fino a qualche anno fa eravamo dei solerti elettori. Comunque insomma le elezioni del 2019 sono state le prime dopo quasi 20 anni a avere un'affluenza continentale europea superiore al 50%. Ed è stata una cosa buona, però ci dice anche molto del fatto che per molti anni sia stata al di sotto del 50%. Quindi per… no, 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 negli anni dal 79 al 94 secondo me… no, secondo me è sempre stata al di sopra. Dal 94 al 2019 è stata giù e poi è tornata su. Credo che il minimo storico, aiutami Maurizio, credo sia stato il 2014. Sì, con un 42% più o meno, mentre nel 2019 siamo stati intorno al 51% media europea in Italia 55%. Ma io vorrei chiedere, scusa Luciano, poi ti lascio proseguire il ragionamento tanto per capire se effettivamente chi pensa che si sia parlato, si stia parlando molto di elezioni europee. Facciamo uno slide così un po' grezzo, ma chi pensa che si stia parlando molto di elezioni europee, gridi usa il tuo voto. No, nessuno. Chi pensa che se ne stia parlando poco, gridi non lo so, non andate a votare. No, nessuno grida. Comunque quando mi hai interrotto temevo mi stessi chiedendo conto della maglietta che ho rubato. No, 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 va bene, va bene. In realtà lo spunto anche per dire che se ne hai parlato poco arriva da un tuo post su Instagram, Luciana, nel senso che sei tenuto un primo dibattito, adesso ricordami era aprile, giusto? No, secondo me era maggio, sai che non me lo ricordo. Maastrizzi, era inizio maggio. Tra i vari appunto candidati alla presidenza che hanno espresso i vari gruppi parlamentari europei che leggendo sempre il tuo post hanno visto in 250 mila persone su ovviamente una popolazione di 400 milioni di abitanti. Capite bene che se pensate a un programma televisivo medio italiano, 250 mila persone non è neanche, non dico fuori orario su Rai 3 alle 4 del mattino, ma poco ci manca. Verrebbe chiuso un programma che fa 250 mila persone. Allora, lo spunto ovviamente anche un po' provocatorio è come mai questa cosa, come mai ad esempio un dibattito che dovrebbe interessarci così da vicino e eleggerà ovviamente in maniera intermediata, no? Un presidente che avrà nelle sue mani le sorti di diciamo 400 milioni e passa di persone, eppure nessuno si interessa cosa dicono, che cosa pensano, quali sono i loro piani, le loro visioni. Ovviamente a questo dibattito ha partecipato anche la presidente uscente Ursula von der Leyen, ovviamente era da lì che provocatoriamente gli veniva da dire se ne parla poco, comunque l'interesse soprattutto nostro è poco. Allora, tu mi hai fatto una domanda che sono 10 domande, quindi grazie. Secondo me il fatto che ci sia un interesse scarso, quantomeno distratto rispetto alle elezioni europee, ha a che fare con due cose. La prima cosa è che all'Unione Europea, per varie ragioni che messe insieme fanno, cioè che sono così tante che alla fine ne fanno niente, per varie ragioni manca una storia da raccontare. L'Unione Europea non ha una storia da raccontare. Quando gli americani, quando gli statunitensi votano, per le presidenziali o anche per le elezioni del congresso, votano per due differenti storie americane, cioè due differenti versioni della stessa storia. Una storia condivisa, una storia costruita, una storia anche un po' farlocca per certi aspetti, un po' retorica, c'è questo grandissimo patriottismo negli Stati Uniti, la bandiera, i cowboy, la frontiera, eccetera. Loro ce l'hanno e anche sui temi rispetto ai quali sono più divisi condividono questi valori di fondo. Loro, che siano trampiani, che siano Bideniani, che siano sostenitori di Bernie Sanders, comunque si credono veramente la terra tra degli audaci e dei liberi. Loro ci credono. E ci credono perché esiste una storia americana. In Europa, un po' perché siamo riusciti nell'impresa piuttosto difficile di essere più giovani degli americani, che è una cosa complicata considerando che noi abbiamo millenni di storia e l'altro no. Un po' perché si è stati negli anni un po' timidi nella coesione, nella creazione di una unione politica. A noi europei questa storia comune manca. Quindi, quando si vota per le elezioni europee, difficilmente si ha la sensazione di votare per una versione della propria storia e per una versione del proprio futuro. Si ha l'impressione di votare per delle persone che poi vanno a Strasburgo, vanno a Bruxelles e poi chissà che cosa fanno, che ogni tanto se ne vengono fuori con qualche direttiva un po' astrusa e che poi ci rompono le scatole con i tappini delle bottiglie di plastica. Insomma, si perde un po' questa dimensione dell'immediatezza, della concretezza dell'Unione Europea. Le ragioni per cui non siamo riusciti a creare questa storia, appunto, sono tante. Hanno a che fare con il modo in cui è nata l'Unione Europea, che è nata da un grandissimo trauma, il trauma enorme della guerra o anche delle guerre. Mi riferisco alle due guerre del 9% ma anche alle centinaia di guerre che ci sono state prima. E quindi questa frammentazione poi ha stentato con il tempo a farsi unità. E ha stentato a farsi unità anche perché per tantissimo tempo, diciamo fino a una decina di anni fa scarsi, non c'era bisogno che si creasse questa unità, non c'era bisogno di questa storia. Perché? Perché fino a una decina di anni fa nessuno, ma veramente nessuno, si sarebbe mai sognato di mettere in discussione l'Unione Europea. Nessuno si sarebbe mai sognato di parlare di Frexit, di Italexit, di Polexit, di Spagnexit. Impossibile. Se pensiamo anche in Italia, fino a qualche anno fa non c'erano partiti che parlavano di exit, anche quelli più a destra. Non era proprio una cosa nell'orizzonte. E non lo era perché in quel periodo, perché diciamo per i primi, diciamo dagli anni 60, quando ancora non c'era l'Unione Europea, ma c'era la C, la C, l'Euratom e tutte queste cose qua, il progetto europeo aveva la sua forza nell'essere distante, nell'essere invisibile. Poi da un certo punto in poi, diciamo dagli anni 10 del 2000, è successo che qualcuno si è accorto che l'Unione Europea poteva essere utilizzata come argomento politico di propaganda, ma ahimè, chi se ne è accorto è stato chi ha pensato che potesse essere usata come strumento di propaganda in negativo, come catalizzatore di consenso in negativo. Personalmente rimpiango molto che questa idea sia avvenuta prima a chi vuole denigrare l'Unione Europea che non a chi vuole tutelarla. Quindi diciamo dagli anni, dai primi anni 10, in concomitanza con la crisi dell'euro, l'Unione Europea ha cominciato a diventare un tema divisivo e quindi per quanto paradossale possa sembrare, nel momento in cui si è cominciato a parlare male dell'Unione Europea, si è anche rafforzato il fronte di chi vuole difenderla. La scoppola presa con Brexit è stata talmente forte che ha prodotto un effetto rimbalzo, rafforzamento dell'Unione Europea che quindi da una, sono passati sei anni da Brexit, sette anni, 2016, otto anni, otto anni, sono passati otto anni da Brexit e da allora che si è cominciato a parlare in modo concreto di Europa e ahimè se ne è cominciato a parlare in un modo divisivo, però il fatto che se ne parli in modo divisivo ha anche fatto sì che sia un tema che fa audience e che quindi almeno se ne parla, se ne parla molto di più. Chiudo e dico una cosa, che io ho cominciato a scrivere la mia newsletter proprio perché una persona a me vicina, che è un sostenitore sincero del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle prima versione, quella che era clamorosamente anti-europeista, anche se ora fanno un po' i vaghi e dicono no no noi siamo europeisti ma in realtà il Movimento 5 Stelle nasce come una cosa anti-UE che poi dopo ha avuto una sua evoluzione. Insomma questa persona vicina al Movimento 5 Stelle mi chiese ma insomma tutta questa Europa che tu difendi, che ti piace, insomma si può sapere che fa tutto il giorno, si può sapere che fanno tutto il giorno questi tizi. E io mi incavolai così tanto che ho deciso di fare una newsletter settimanale che va avanti da cinque anni e io tutte le domeniche che rispondo. Per quello che riguarda i dibattiti invece, e poi chiudo, mercoledì alle 3 di pomeriggio c'è l'ultimo dibattito tra Spitz and Candidate, gli Spitz and Candidate sono i candidati di punta, i capofila dei partiti europei perché funziona dal 2014 diciamo, funziona che ogni partito europeo propone un suo candidato alla guida della Commissione europea, non sempre va secondo i piani, ad oggi se voi domani, scusate, domani? No, domani il 23, oggi è il 21, giovedì, giovedì, guarderete quel dibattito che ahimè sarà trasmesso solo online, vedrete Ursula von der Leyen dibattere con sette perfetti sconosciuti. Perché? Perché ad oggi l'unico vero nome realmente in campo, che realmente ha possibilità di arrivare alla guida della Commissione europea è quello di Ursula von der Leyen, a meno che dal, perché scusatemi, Ursula von der Leyen è la Spitz and Candidate, cioè la candidata di punta del Partito Popolare europeo che è il partito che con ogni probabilità, a meno che i sondaggisti di tutta Europa non siano ubriachi, insomma vincerà queste elezioni, sarà il primo partito del Parlamento europeo, quindi in teoria dovrebbe essere lei la candidata, l'espressione per la guida del Parlamento europeo. Gli altri sette signori che vedrete sono fondamentalmente di rappresentanza, non hanno reali. Tra l'altro ce ne saranno solo cinque, perché il gruppo di cui fa parte la Meloni e il gruppo di cui fa parte Salvini non hanno indicato formalmente dei candidati. Ma a Maastricht c'erano, ma a Bruxelles l'Ebu ha detto che invita solo chi ha nominato formalmente dei candidati, quindi per ora, a meno che non cambino le cose all'ultimo momento, avremo cinque candidati. L'unica ipotesi per cui Ursula von der Leyen potrebbe non diventare presidente della Commissione europea potrebbe uscire dal Consiglio europeo che potrebbe tirar fuori dal cilindro qualche altro nome. Magari dopo, quale potrebbe essere? Scusatemi, sono andata tutta lunga, ma... No, no, almeno hai lasciato un po' di suspense. Maurizio, diciamo che Luciana ha già detto abbastanza e soprattutto ci ha fatto capire quanto in realtà, nonostante non venga raccontata a volte nel modo giusto, come dicevi anche tu Maurizio prima, quello che fa l'Europa, tra l'altro sarebbe bello distinguere poi anche tra Commissione e Parlamento, spesso e volentieri quando ci siamo confrontati su quello che avremmo poi detto oggi, mi facevi notare le distinzioni tra Parlamento e Commissione e anche poi in quello che è il Green Deal europeo. Ed è di questo che ti chiedo, nel senso che è fondamentalmente un po' la spina dorsale dell'impianto politico della Commissione oggi, è stato forse tra le cose più acclamate anche all'estero perché effettivamente l'Europa è stata lungimirante in questo, ha avuto una visione politica, sono stati raccolti anche tanti successi, quello che ti chiedo è come sono stati raggiunti, quali sono questi successi e appunto che ruolo ha avuto il Parlamento magari rispetto alla Commissione nell'adozione di tanti tasselli di quello che poi è il Green Deal, il percorso verso la transizione. Tommaso ci fa delle domande che ognuna di queste domande meriterebbe un incontro di un'oretta, un'oretta e mezza e non riusciremo ad esaurirlo, infatti capisco la risposta articolata di Luciana perché anche le domande di prima che sintetizzerei in too little too late per quanto riguarda la costruzione di un soft power europeo, ma insomma non perdiamo le speranze nel senso che io dico sempre, secondo me se l'inno dell'Unione Europea fosse l'inno della Champions League invece che l'inno alla gioia forse scalderebbe di più i cuori, con tutto che l'inno alla gioia è bellissimo, non voglio... La Champions League è la Champions League, non ci riscute. La Champions League, se voi pensate a quando, almeno la mia generazione, io ho scoperto l'Europa con le coppie europee di calcio, poi chi non gli frega niente del calcio magari l'avrà scoperta con l'Eurovision, secondo me in pochi l'hanno scoperta con l'inno alla gioia, quindi questo tanto per dire che gli sforzi che stiamo facendo per raccontare l'Unione Europea in maniera un po' più, meno legata a delle narrative del passato, trovare uno storytelling è una cosa che condivido assolutamente con Luciana e che noi nel nostro piccolo, come Parlamento Europeo in Italia, stiamo cercando di fare, a volte ci riusciamo meglio, a volte meno. Comunque, lasciatemi ringraziare il circolo dei lettori perché per me è un piacere essere qui, come dicevo per la prima volta, spero non sia l'ultima, che dopo oggi speriamo insomma che vogliono ancora invitarmi. Per rispondere alla tua domanda, allora il Green Deal è stato il pacchetto di provvedimenti più importanti con cui è iniziata la legislatura nel 2019 ed è tuttora il pacchetto di provvedimenti più importanti della legislatura. certo che poi il mondo reale ci si è catapultato addosso con una pandemia, un paio di guerre molto vicine e quindi le cose in corso d'opera sono cambiate. Uno fa dei piani, poi dopo ti crolla la casa e i piani vanno dove vanno. Nonostante questo, la grande maggioranza dei provvedimenti contenuti nel Green Deal, che erano centinaia, cioè più di un centinaio, sono stati approvati, sono entrati in vigore. Diciamo che i due fondamentali, la legge sul clima, il Fit for 55, che adesso io semplifico molto, ma da un lato rendevano vincolanti gli obiettivi del 55% della riduzione di emissioni di CO2 entro il 2030 e la neutralità delle emissioni entro il 2050, legge sul clima. Fit for 55 davano il quadro di come arrivare alla riduzione degli obiettivi delle emissioni di CO2 entro il 2030 del 55% rispetto alle emissioni del 1990. questi due pacchetti che erano, diciamo, i più grossi, sono stati implementati, sono stati approvati, sono entrati in vigore. Cioè noi in Unione Europea abbiamo una legge sul clima, che vi pare poco, a me no. Poi, tanti altri, voglio dire, adesso faccio una panoramica un po' molto veloce, ma avete sentito tutti parlare della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici, anche questa è entrata in vigore. Poi, essendo una direttiva, gli Stati membri dovranno fare la propria legge che recepisce questa direttiva. Il divieto di vendita delle auto a benzina, con motori a combustione interna, benzina e diesel entro il 2035, approvato. Nell'ultima plenaria del Parlamento Europeo, la direttiva sul packaging, quindi sulla riduzione degli imballaggi, l'incentivo del riutilizzo e del riciclo, pacchetto molto controverso. L'Italia aveva molte problematiche su questo pacchetto, in particolare sulla questione dello spingere molto sul riuso e quando noi siamo molto più bravi. Insomma, adesso non voglio entrare nei dettagli, ma approvato anche questo, il pacchetto sull'eco design, quindi sulla riduzione dei rifiuti provenienti dal settore della moda e sulla produzione di prodotti tessili più sostenibili, approvato. Ci sono un paio di grossi provvedimenti su cui invece ancora siamo a fine legislatura un po' indietro e che probabilmente, anzi direi certamente, passeranno alla prossima legislatura. Uno in particolare è quello sul ripristino della natura, la Nature Restoration Law. Questo ha avuto una serie di passaggi molto articolati. Diciamo che, adesso io non vorrei entrare, è un provvedimento che dice che per esempio il 20% dei terreni agricoli e degli ecosistemi marini deve essere ridato alla natura, quindi riconvertito in terreni naturali entro il 2030, che pone anche degli obiettivi molto ambiziosi entro il 2050, per esempio che il 50% delle torbiere, che sono delle paludi, che molto spesso vengono drenate per avere dell'acqua o comunque vengono utilizzate per le estrazioni minerarie, ecco il 50% dovrebbe essere riconvertiti a ecosistemi naturali, che nei terreni agricoli vadano piantati alberi o altre siepi o altre, come dire, vadano inseriti altri elementi naturali nei terreni destinati all'agricoltura. È un provvedimento molto complicato che in questo momento è bloccato dal Consiglio e a me viene da fare un parallelo con quello che è successo col regolamento di Dublino, col trattato di Dublino che il Parlamento europeo voleva rivedere, aveva approvato una sua posizione nel novembre 2017, si è trovato un accordo sul patto per la migrazione che in parte affronta alcune delle problematiche del trattato di Dublino a fine 2023, quindi sono stati sei anni in cui il Consiglio è riuscito a bloccare gli stati membri, perché poi quando parliamo di Europa, come dice di Unione Europea, come dice Tommaso, dobbiamo parlare di Parlamento, dobbiamo parlare di Commissione, dobbiamo parlare di Consiglio dell'Unione Europea, quindi degli stati membri. In questo caso, nel caso di Dublino, come nel caso della Nature Restoration Law, sono gli stati membri che non riescono a trovare un accordo fra di loro. Sono poco meno di una decina di stati membri che hanno delle perplessità su questa Nature Restoration Law, fra cui anche l'Italia, fra l'altro. Il ruolo del Parlamento. Allora, intanto diciamo che la Commissione Europea, col commissario Timmermans, che penso molti di voi conoscano, aveva spinto molto sul Green Deal e anche il Parlamento Europeo aveva sempre spinto molto su tutti i provvedimenti legislativi che avevano a che fare col Green Deal. Nonostante ci sia una forte sensibilità, anche se minoritaria in questo Parlamento, di gruppi politici, di esponenti, di parlamentari che restano scettici e che dicono che il Green Deal, come è stato proposto dalla Commissione Europea originariamente, che i vari pacchetti che poi sono stati proposti, in molti casi approvati, prediligevano la componente dell'ambientalismo, mettiamola così per tagliare proprio con l'accetta, rispetto alla componente della salvaguardia dei posti di lavoro, della tutela delle industrie. Ricordiamo che fra l'altro nel Green Deal c'è anche un pacchetto che si chiama Just Transition Fund, quindi insomma si guarda anche alla transizione verde e a tutelare gli eventuali perdenti da questa transizione. Comunque diciamo che poi Timmermans era sempre un grosso fautore dell'idea originale di Green Deal, quando Timmermans è tornato alla politica olandese e con il nuovo commissario all'ambiente c'è stata un po' una frenata, diciamo, comunque una riconsiderazione. Il Parlamento Europeo che è sempre stato molto, come dire, sempre spinto in questa legislatura, per come la legislatura è composta, per More and Better, almeno per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, c'è chi dice che More and Better non è allo stesso tempo tutelare More and Better l'industria, i posti di lavoro. Ecco, il Parlamento ha continuato a spingere per approvare il più possibile dei provvedimenti e per avere dei provvedimenti che siano il più possibile ambiziosi. Adesso, con la prossima legislatura, bisognerà vedere quali saranno i risultati delle elezioni, che tipo di Parlamento avremo, quanto le componenti che sono, come dire, meno entusiaste del Green Deal, più scettiche rispetto all'approccio voluto dal Green Deal, che tipo di potere avranno, quanto invece potere avranno le componenti che vogliono spingere di più verso una protezione dell'ambiente. Cioè, capiamoci, a parole nessuno è contro il Green Deal, nessuno è contro, come dire, la tutela dell'ambiente. A parole tutti sono favorevoli, poi però ci sono approcci diversi e visioni diverse su come raggiungere questa transizione verde. E sono approcci diversi non solo fra, per esempio, i gruppi di destra, quindi Identità e Democrazia, ECR, parte del PPE, ma anche parte dei liberali. Di Renew hanno approcci riguardo la transizione, insomma, riguardo il Green Deal un po' più tiepidi, mettiamola così. E in molti, diciamo, c'è una sensibilità per ora minoritaria in Parlamento europeo, che però dice che il Green Deal è più sbilanciato dalla parte della protezione dell'ambiente rispetto alla tutela dei posti di lavoro. Tra l'altro, appunto, Green Deal, che sappiamo essere stato adottato per mettere in pratica quello che hai accenato tu, Maurizio, all'inizio, fondamentalmente un piano per la riduzione delle emissioni 22, perché appunto arriva dopo l'accordo di Parigi del 2015, che è l'accordo internazionale che ha messo, diciamo, in comune l'intera comunità internazionale proprio per cercare di tagliare le emissioni e fare in modo di contrastare attivamente la crisi climatica. Un piano che appunto ha cercato di fondere questo obiettivo con ovviamente l'aspetto economico, l'aspetto sociale, perché appunto diceva il Just Transition è fondamentalmente quello che von der Leyen diceva senza lasciare nessuno indietro, quindi fare la transizione però senza dimenticare chi poi magari vedrà cambiato il proprio posto di lavoro e quant'altro. Poi però, appunto, è arrivata una pandemia, è arrivata una guerra alle porte d'Europa, ovviamente ne stiamo vivendo un'altra anche lì in Medio Oriente, probabilmente però appunto paradossalmente molto più della pandemia ha creato degli scossoni dal punto di vista soprattutto della transizione energetica, ovviamente l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Però ti chiedo Luciana, in che modo? Cioè ci sono stati, diciamo, diversi approcci, no? Che in qualche modo l'invasione dell'Ucraina ha portato verso il Green Deal, positivi o negativi se la vogliamo vedere poi, no? Da diversi punti di vista. Sappiamo che c'è stata una corsa al cercare di diventare indipendenti per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas russo, però c'è stata anche una sorta di panico da ricerca di combustibili fossili e quindi in qualche modo rallentando. Ecco, secondo te questo in particolare come ha influito quindi l'invasione nel 2022? Poi in generale, diceva Maurizio, in che modo i vari eventi che si sono svolti secondo il tuo osservatorio della spada nella roccia hanno influito sul Green Deal? Allora, grazie Zia per queste 25 domande a cui risponderò a monosillabi perché non ho altre speranze. Abbiamo parlato di complessità, se siamo qui è perché la gente vuole sapere, sennò stava a casa e guardava. È un petris questa domanda. Secondo me sono molte domande di cui la gente ha risposte e spesso non li trova le risposte. Un po' di Rubik e quindi devo trovarle io. Allora, no, prima di tutto volevo citare un mio amico e collega che tra l'altro è stato qui, che è Ferdinando Cotugno, non so se c'eravate all'incontro con lui, che dice che la fine del mese arriva sempre prima della fine del mondo. E questo è un dato di fatto, cioè nessuno di noi sceglie consapevolmente di inquinare, di distruggere, di mandare a gambe all'aria il clima. Però, come dire, ognuno di noi pensa al proprio immediato, questo sempre. La ragione per cui, praticamente per tutto il ventesimo secolo, abbiamo bruciato tutto il petrolio, tutto il gas, tutto il carbone disponibile, era perché non c'era alternativa. L'alternativa reale c'è da una ventina d'anni. Quest'anno, nel 2023, per la prima volta siamo riusciti a produrre il 30% del fabbisogno di energia elettrica che consumiamo attraverso fonti rinnovabili. Prima no. E prima non è che non ci siamo riusciti perché eravamo cattivi e ora siamo buoni. Prima non ci siamo riusciti perché non ce n'erano le tecnologie, non ce n'era l'expertise, non c'erano i fondi che consentivano queste cose. Insomma, io ero bambina negli anni 80 e l'unico pannello solare di cui si parlava era quello della calcolatrice perché non esisteva altra fonte di alimentazione che non fosse, cioè non esisteva una fonte di energia che non fosse il gas, il petrolio, il carbone, il nucleare laddove c'era. E tra l'altro la calcolatrice spesso non funzionava, non si attendeva, quindi era pessimo. La questione guerra ha avuto un effetto cruciale in questa spinta verso la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Perché? Perché nel giro di 3-4 mesi sono stati chiusi i rubinetti del gas. Fate conto che fino al febbraio 2022 una proporzione enorme, il 60%, una cosa così dell'energia prodotta dall'Unione Europea arrivava dal gas russo e nel giro di meno di un anno siamo arrivati al 10%. Perché? Perché sono due paesi che sono Austria e un'energia che non hanno mai interrotto i loro acquisti di gas russo. Perché? Perché per il resto non ci sono più acquisti di gas russo. Questa necessità di cercare in modo urgente altre fonti di energia non ci ha tanto fatto produrre energia da fonti rinnovabili, perché comunque bisogna costruirle eccetera. Però ci ha fatto fare insieme alle decisioni legate al Green Deal, insieme ai fondi di Next Generation EU, ci ha fatto avviare una serie di investimenti tali per cui l'ipotesi di dimezzare le nostre emissioni entro il 2030 è verosimile. prima non lo era. Adesso è verosimile. È una cosa che probabilmente succederà. E invece, e cercherò di essere breve, per quello che riguarda il futuro, occorre dire che secondo me non esiste uno scenario in cui la Russia vince la guerra in Ucraina, ma anche come dire in uno scenario conservativo, cioè si decide per via diplomatica di congelare la situazione, si dice a Putin senti prenditi il Donbass e l'est del paese e la chiudiamo qui. E contemporaneamente l'Unione Europea continua la transizione energetica. Questi due scenari sono incompatibili. Non esiste uno scenario in cui Putin esce vincitore almeno morale da questa guerra e l'Unione Europea continua la sua decarbonizzazione. Perché? Perché se Putin dovesse uscire in colume più o meno da questa guerra, in colume se non addirittura vincitore da questa guerra potrà risedere al tavolo dei grandi e lui di mestiere vende petrolio e gas e quindi avrà maggiore potere nel farlo, avrà maggiore capacità politica nel farlo e nel voler fermare la transizione verde. Inoltre la Russia, un paese contro il quale io non ho nulla, anzi non ho motivo per avercela con i russi, comunque la Russia ha solo da guadagnare da uno scenario di cambiamento climatico. Per due ragioni. Perché se si sciolgono i ghiacci, la Russia guadagna ettari e ettari di terreno coltivabile. B, se si sciolgono i ghiacci, la Russia controlla il 60% della prossima nuova rotta più importante del mondo che sarà quella da nord, quella che passa dall'artico e che taglia i tempi di percorrenza di dieci giorni, una cosa enorme. Quindi è inverosimile credere che il discorso sulla guerra e il discorso sull'ambiente siano scissi, siano distinti, sono la stessa cosa. Il fatto che almeno in Italia, in Europa è diverso, ma almeno in Italia i partiti che votano contro l'invio di armi all'Ucraina, che sono fondamentalmente alleanza verde e sinistra e cinque stelle, siano anche quelli che si dicono più accesi nel sostenere la transizione verde, è una contraddizione in termini che non sta in piedi. Cerco di fare un salto rispetto a quanto ha detto Luciana, che non so appunto quanti di voi avevano fatto anche questi collegamenti, anche per me è una prima volta e quindi ringrazio di avere diciamo in qualche modo sintetizzato anche la risposta rispetto alla complessità della domanda, però dicevi fondamentalmente non è un caso che alcuni che hanno votato contro alcune direttive a sfondo verde siano anche quelli sostenitori, il contrario esatto, e questo quindi mi viene da chiederti i passi indietro che ci davi prima Maurizio, in qualche modo secondo te sono strutturali nel senso che c'è un cedimento del Green Deal anche in ottica di quello che diceva Luciana oppure sono più cose legate a un contesto di campagna elettorale, di raccogliere fondamentalmente quei voti di pancia, ovviamente so che la tua posizione non ti consentirà di sbilangiarti più di tanto giustamente, però almeno dall'osservatorio diciamo più di lungo corso. Stessa domanda poi farei anche a te Luciana perché ovviamente chiude un po' il cerchio rispetto a quanto detto prima. Io penso che la lotta al cambiamento climatico è qui per restare, ma non lo penso io, cioè noi da un anno a questa parte dall'alluvione in Emilia Romagna, che fra l'altro è stato il secondo evento più catastrofico a livello, come dire, più intenso a livello climatico del 2023 dopo le siccità in Africa, fino a questo maggio che vediamo, cioè sentiamo qui i tuoni, gli eventi estremi che stiamo avendo in questo maggio in Italia, che abbiamo avuto anche insomma negli scorsi mesi, poi c'è stata l'alluvione in Toscana, il nubifraggio a Milano nel luglio del 2023, insomma tutta questa serie di eventi estremi ci hanno già fatto spendere, leggevo, più o meno 15 miliardi. 15 miliardi di euro è una manovra economica. Allora, indipendentemente da come andranno le elezioni europee, indipendentemente da chi vincerà, la lotta al cambiamento climatico resterà una priorità. Però non è irrilevante come andranno le elezioni europee, nel senso che le sensibilità che ci sono all'interno del Parlamento europeo, che potranno esserci all'interno del futuro Parlamento europeo, sono molto diverse. Cioè voglio dire, il fatto che dobbiamo fare qualcosa è un fatto, non è un'opinione. Cioè, dobbiamo capire se vogliamo pagare i danni o farci un'assicurazione sulla vita. Quindi c'è chi dice, adesso io la semplifico molto, come diceva giustamente Luciana. Intanto prendiamo lo stipendio alla fine del mese, poi quando ci sarà la fine del mondo cercheremo di pagare i danni della fine del mondo e di uscirne comunque vivi in modo che la fine del mondo non sia veramente una fine. E c'è chi dice, forse prendiamo un po' meno di stipendio, forse viviamo con degli standard un po' diversi, forse ci sarà comunque da penalizzare un po' qualche settore, l'industria eccetera, ma intanto quello che risparmiamo mettiamolo per minimizzare questi danni, per cercare di tirare un freno a mano. E, come dire, questo è quello che abbiamo in ballo con l'elezione europea. Cioè, siamo più sensibili al dire, ma io non voglio rinunciare alla mia vita, oppure io non voglio che nel mio paese molte industrie debbano chiudere, quindi voglio continuare con un approccio che chi ha questo tipo di approccio definisce più pragmatico, oppure voglio votare per delle forze che invece dicono il cambiamento climatico è qui, lo vedete tutti, il numero di fenomeni estremi è in aumento. Prendiamo delle scelte anche radicali, anche con dei costi molto alti, ma cerchiamo di affrontarlo ora e di affrontarlo in maniera, come dire, molto decisa. Adesso, nel mezzo fra questi due schieramenti ci sono molte sfumature. Io ho fatto veramente un quadro, dipinto un quadro della situazione molto schizzato, molto esagerato, se volete estremizzato. Ripeto, nessuno vi dirà che è contro la lotta al cambiamento climatico, tranne ci sono quelli che dicono che la Groenlandia era verde, non so che le glaciazioni ci sono sempre state, anche i periodi di caldo estremo, ma sono minoritari, voglio dire, tutti sanno che bisogna fare qualcosa contro il cambiamento climatico. Il problema è cosa fare, come farlo, quanto avanti spingersi, quanto possiamo sopportare delle perdite in questo momento per evitare che le perdite siano più grosse dopo, oppure quanto vogliamo rischiare di avere perdite grosse dopo e poi occuparcene e però intanto adesso tutelare chi rischierebbe di perdere da questa transizione. Ripeto, estremizzando è un po' questo. Il vostro voto, il voto di tutti noi, servirà a dare un orientamento su che tipo di Unione Europea vogliamo, ma su questo come sull'impegno, per esempio, per proteggere, per continuare a sostenere l'Ucraina, se vogliamo un'Unione Europea che nel mondo sia più centrale oppure sia più ritirata, se vogliamo dare più spazio agli Stati membri e meno all'Unione Europea, un'Unione Europea che faccia meno e lo faccia meglio, oppure un'Unione Europea che se la giochi di più su tutti i fronti, un'Unione Europea allargata e a chi e quanto la allarghiamo e come funziona l'Unione Europea e dobbiamo riformare i trattati. Quando Tommaso all'inizio diceva che si parla poco di elezioni europee, io continuo a dire che non sono d'accordo e continuo a dire che secondo me se ne parla molto, ma se ne parla più da una chiave. Non so quanti di voi sapevano di questo dibattito il 23 pomeriggio fra i candidati capolista, secondo me pochi. Quindi invece tutti sanno che Schlein è candidata, che la Meloni è candidata, che Tajani è candidato. Tutti probabilmente noi qui in sala hanno visto i vari servizi del giornale su Meloni che va al congresso delle CR e che parla con quelli di Vox e allora poi le polemiche. Il problema non è che la gente non sa che ci sono elezioni, la gente lo sa che ci sono elezioni. Il problema è che la gente pensa che le elezioni europee siano un voto su Meloni, Schlein, Conte, Salvini e invece la chiave non è quella. La chiave è cioè nei prossimi cinque anni o noi facciamo qualcosa, in qualsiasi modo lo vogliamo fare, ripeto ve l'ho un po' dipinta la situazione in maniera molto approssimativa, ma non è che possiamo mettere in pausa, non è che se noi non decidiamo domani smette di piovere o smette di esserci temporali, alluvioni, probabilmente non smette neanche se votiamo, ma dobbiamo dare una direzione. Lo stesso la guerra in Ucraina, io sono molto d'accordo con quello che diceva Luciano, cioè non è che noi possiamo dire a Putin fermati un attimo, noi adesso votiamo alle elezioni convinti di votare per Meloni, Schlein, Salvini, italiani, convinti di fare un referendum sul governo italiano, poi dopo sull'Unione Europea ci parliamo un po' e decidiamo. No, le sfide che abbiamo di fronte, e ne ho dette solo un paio ma poi ce ne sono, per esempio un'Unione Europea che decide all'unanimità su tante questioni. Cioè in base a come votiamo avremo dei decisori politici che affronteranno questo problema in una maniera o in un'altra. Devo dire che mi hai quasi convinto, nel senso che se noi consideriamo ovviamente le note polemiche, il dibattito all'italiana, effettivamente si parla tanto. Ovviamente il mio assunto dava per scontato che comunque parlare di elzioni europee volesse dire parlare di contenuti e quindi lì molto probabilmente se ne parla poco, ma ovviamente se invece andiamo a includere tutte le polemiche sui capilista eccetera eccetera, sicuramente se ne è parlato. Forse però non in maniera utile. Anche su questo ti dico che se ne parla poco hai ragione, cioè il dibattito sulle posizioni italiane, la dialettica sulle posizioni politiche italiane è ampiamente maggioritario rispetto a quanto si parli di questioni europee, ma se ne parla di più che in passato. Io continuo a essere ottimista, ma su tutto, è su questo anche sul fatto di come potremo lottare contro il cambiamento climatico, cioè io continuo ad essere ottimista nel fatto che troveremo delle soluzioni ai problemi. È certo che, voglio dire, abbiamo un orologio che sta, abbiamo una bomba in tasca, cioè e l'orologio va avanti, ticchetta, ticchetta, ticchetta finché a un certo punto o facciamo esplodere la bomba e poi ricostruiamo in base da, oppure disinneschiamo la bomba prima. Devo rispondere che siamo lunghi altrimenti tagliamo, però se vi volevi aggiungere... No, no, io sono d'accordo con lui, sono molto convinta che alla fine il Green Deal rimarrà, che la transizione rimarrà, continuerà e crescerà. Io credo che l'ipotesi di dimezzare le emissioni europee nel 2050 sarà raggiunto, se non proprio dimezzate quasi. Credo che l'obiettivo della neutralità climatica... Ho fatto un confusione... Il 2030, non fa niente, il 55%... Allora, la neutralità climatica entro il 2050, scusatemi, sarà raggiunto. Credo che tutto questo succederà, non solo perché è urgente, perché è evidente che c'è qualcosa che non va, ma anche perché conviene. È un enorme business, è una cosa che è più redditizio fare che non fare, è una cosa che ci fa aprire nuovi filoni di affari, di industria, di crescita e ci fa risparmiare un sacco di costi. Quindi la transizione sarà fatta, se non perché è giusto, quantomeno perché conviene e quindi inevitabilmente ci sarà. Tornando a quello che ho detto prima, è anche vero che sì, la Russia proverà a fermarla, però è anche vero che la Cina, che è il principale motore oggi, è sì uno dei paesi più inquianti del mondo, ma è anche il principale motore della transizione. Ad oggi la Cina, quest'anno la Cina ha prodotto più eolico e solare di tutto il resto del mondo messo insieme, quindi è evidente che il business, la crescita, la prospettiva futura va in quella direzione. Quindi calma e gesso, comunque vadano queste elezioni, non temete se vi sta a cuore la transizione energetica, perché se poi invece non vi sta a cuore è un altro discorso. Io credo che ci sarà, che andrà avanti e che in qualche modo salveremo il mondo come gli eroi della Marvel. Mi piace molto questa narrativa dei supereroi della Marvel. Come si fa nei dibattiti? A questo punto vi lascio spazio un minuto per convincere tra virgolette ad andare a votare, perché vi chiedo perché secondo voi oggi è ancora importante votare quando sappiamo che spesso e volentieri il sentimento è cosa vada a fare, tanto non cambierà nulla, tanto uccidono loro, tra virgolette. Magari un minuto Luciano e farei chiudere invece Maurizio perché è anche poi un tema della vostra campagna di cercare di usare il voto nel miglior modo possibile. Inizio io? Wow. Allora, secondo me ad oggi votare è l'unico modo che abbiamo per cambiare le cose, cioè in democrazia non esistono altri, non ce ne sono. E poi secondo me è giusto ricordare che le istituzioni alla fine non sono altro che lo specchio di chi vota, cioè si tende a credere che poi le persone una volta elette facciano cose che seguono logiche oscure. No, tendenzialmente qualunque politico più o meno segue una agenda, questa agenda viene comunicata agli elettori in campagna elettorale e poi più o meno viene seguita. Quindi io credo che l'unico modo che abbiamo per incidere sul nostro futuro sia scegliere una di queste agende e poi in bocca al lupo. Buona fortuna. Maurizio? Io per una volta non sono d'accordo con Luciana e essendo fra l'altro di formazione anarchica dico che votare non è l'unico modo. Ci sono tante cose che uno può fare a livello di, come dire, in primis essere informati, informarsi, informarsi sempre di più, cercare di capire questa Europa che è un'Unione Europea che spesso è un po' sconosciuta e soprattutto votare è importante, è importante ora più che mai proprio per le sfide di cui stavamo parlando prima. Quindi dire la vostra sulla, dire la nostra sulla transizione verde, sulle guerre in Ucraina e Medio Oriente, sul che tipo di Europa vogliamo nel mondo, sul futuro istituzionale, sul futuro assetto dell'Unione Europea, sulla sfida del digitale, l'intelligenza artificiale. Quindi è vero, votare è molto importante, tutti dovremo andare a votare, ma è altrettanto importante essere informati, è altrettanto importante ricreare uno spirito di comunità, quindi parlare ai vostri amici, familiari, al vostro amico Novaxo, Noè, Noiu, non per convincere nessuno, ma confrontarsi, ascoltare anche le opinioni diverse, capire anche chi la pensa molto diversamente. Secondo me, vuol dire, niente cambia dal giorno alla notte, noi non avremo niente che da oggi al 9 giugno farà conoscere, nessuna azione, noi facciamo tante cose come Parlamento Europeo, come istituzione europea, ma non c'è una singola cosa che fa cambiare la percezione dell'Unione Europea, la percezione dell'importanza del voto e martellare sempre su tasselli importanti e costruire, come diceva, trovare uno storytelling, costruire una narrativa che racconti meglio l'Unione Europea, cercare di parlare di un'Unione Europea nei posti dove di un'Unione Europea non si parla, noi siamo andati in carcere, stiamo facendo delle cose nei municipi di Milano dove l'astenzionismo è più basso, siamo andati a Fantasarremo, Fashion Week, Week, adesso stiamo facendo gli spot per la campagna Usa il tuo voto del Parlamento Europeo, li mandiamo su DAZN, su Sky Sport, quindi nel campionato di calcio, stiamo cercando di mobilitare influencer che si occupano, moltiplicatori che si occupano di ambiente con una campagna che Tommaso conosce bene, si chiama Voglio un pianeta così, ma anche persone del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport, insomma è importante vivere le, vivere l'Unione Europea come un qualcosa che ci interessa di pancia, come dire di cuore, ma è altrettanto importante informarci, informarsi, cercare di conoscere sempre di più, cercare di non fermarsi alla superficie, ai titoli dei giornali e così non solo andremo in più a votare ma voteremo anche in maniera più informata. Io chiudo dicendo che non so se fosse possibile, questa è una cosa di cui purtroppo non abbiamo parlato con Tommaso, ma sarebbe molto bello farvi vedere il nostro promo della campagna Ose il tuo voto, sono quattro minuti di documentario, di un piccolo video documentario, molto molto, ha impatto molto forte, impatto emotivo molto forte, non so se è possibile proiettarlo, magari non so Tommaso se volevamo prendere qualche domanda, nel frattempo capiamo. Sì, magari adesso non so se su Youtube si può recuperare, immagino, sul account ufficiale del Parlamento Europeo in Italia. Fa piangere molto, fa piangere molto. Del Parlamento Europeo in Italia. Comunque lo trovate, se cercate di usare il tuo voto su Youtube del Parlamento Europeo in Italia lo trovate, è una roba che dura quattro minuti ed è veramente molto bella, io non solo vi consiglio di guardarlo ma di condividerlo perché spiega benissimo l'importanza di andare a votare. Vediamo se riusciamo a recuperarla al volo, però sì, esatto, apriamo magari alle domande se ce ne sono, soprattutto su alcuni temi che sono stati trattati, magari si vogliono approfondire, ecco la prima, oppure che non abbiamo trattato. Acceso. Verde, non so se bisogna alzare il microfono. E' acceso? E' acceso? E' acceso adesso, ok. Buonasera e grazie dell'interessantissimo dibattito. Io vorrei dire, vorrei fare un punto dal punto di vista dell'elettore, chiedevate se se ne parla dell'Europa, non se ne parla. Secondo me è vero che tutti sappiamo che ci sono le elezioni europee, questo è vero. Però io, che sono molto preoccupato e che sto cercando di informarmi, trovo che sia molto difficile trovare delle informazioni sulle posizioni dei vari partiti. In Italia si è discusso molto che ok, si candida la Meloni, ok, si candida la Schlein, si sa anche che non ci andranno poi per davvero al Parlamento europeo, ma che cosa portano avanti come idee della Meloni che poi non ci va o la Schlein che poi non ci va? Questa parte qua dei contenuti, francamente io la trovo carente al massimo. Quindi vi chiedo, una domanda è, ci sono e anche riuscire a capire, perché è vero che noi italiani abbiamo l'idea che è di nuovo un voto per Meloni e Schlein, eccetera, però di fatto lo è, nel senso che ogni nazione vota i suoi che poi vanno in Parlamento, quindi il Parlamento europeo è composto da queste coalizioni, però noi mandiamo quelli che abbiamo, che purtroppo sono quelli che sono. No, la domanda è, ci sono delle fonti, un sito dove noi possiamo trovare dei contenuti o un programma delle coalizioni, delle coalizioni europee, visto che non abbiamo quelli italiani. Rispondo un attimo al volo, nel senso che peraltro su Livegate.it stiamo facendo proprio un racconto in questo senso, dove abbiamo cercato di sintetizzare i punti programmatici dei vari partiti barra gruppi parlamentari, che poi verranno espressi secondo tematiche, ovviamente legate ai nostri temi di sostenibilità, quindi migrazione, inclusione sociale, ambiente, energia, diritti animali, ce ne sono tanti, quindi sicuramente non mainstream, nel senso non magari nei TG e nei dibattiti televisivi, però sicuramente ci sono tanti siti e in particolare Livegate è uno di questi che stanno facendo approfondimenti per cercare di filtrare, fare un po' da filtro sulla quantità di informazioni che si possono trovare sui singoli siti o sui siti addirittura dei candidati, perché poi ogni candidato fa campagna a sé, in questo caso all'elezione europea, a volte non è neanche finanziato dal partito e porta dei punti specifici, quindi è veramente complesso e a volte si vota più la persona che il partito, però ci sono dei siti e sicuramente appunto su Livegate.it abbiamo già coperto diverse tematiche, in particolare clima, migrazione e appunto soprattutto la parte di allevamenti e agricoltura, però sul resto Maurizio so che volevi rispondere. Allora, c'è questa difficoltà, c'è il tema a cui può starti del tuo, a cui accennavi, del fatto che sono 27 elezioni diverse, cioè ogni paese ha la sua campagna elettorale. Ci sono tanti mezzi di informazione, appunto Livegate in primis, che stanno con newsletter, ecco Luciana, con approfondimenti che stanno dando la chiave europea, i canali del Parlamento europeo, della Commissione europea, i vari social, i vari siti possono aiutare in questo senso. Noi come Parlamento europeo, anche in RAE, stiamo facendo varie interviste ai candidati da Esperienza Europa, David Sassori, che è questo spazio a Roma, molto bello. Tenete conto di due cose. Uno è che i programmi dei candidati piano piano stanno arrivando, cioè le campagne sono partite non da molto e quindi piano piano tutti i candidati avranno il loro programma, i loro punti forti. Tanti siti internet, non so se anche Livegate lo farà, hanno dei test che permettono di orientarvi facendo delle domande e voi rispondete a delle domande e vi danno il partito a cui siete più vicini. Quindi io per esempio una cosa avevi consiglio è piano piano cercare questi test, farli, magari farne più di uno, capire il partito e i partiti a cui siete più vicini, vedere i candidati nella vostra circoscrizione di questo partito. Cioè voi tenete conto di una cosa, che ipotizziamo questo, che voi siete tutti della circoscrizione nord-ovest. La circoscrizione nord-ovest ha credo 18, elegge euro deputati più o meno. Ci sono 12 liste in tutto, quindi 18 per 12 fa 180, 204. Voi avete 204 candidati in tutto. Se voi fate un paio di questi test e vedete che siete vicini a, non so, Lega e PD, per dire, adesso sto parlando giusto per dire. Allora voi vi prendete i 18 candidati della Lega e i 18 candidati del PD, vi prendete un po' di tempo per farvi un po' di ricerche e capite quali di questi candidati volete effettivamente votare. Si possono dare tre preferenze. Ricordiamo che se ne date tre devono essere due uomini e una donna. Quindi uomo-donna-uomo, donna-uomo-donna, sennò poi le preferenze sono invalidate. Comunque, c'è questo lavoro che vi prenderà, non lo so, una mezza giornata, un paio d'ore per tre giorni, vi permette di orientarvi e di capire chi può essere il candidato più adatto da votare e chi può essere la lista più adatta da votare. Se volete votare solo la lista senza votare il candidato, vi prende, non lo so, mezz'ora a fare tre test su tre siti diversi e così capite qual è il partito a cui siete più vicini. Quindi, come dicevo prima, è un po' responsabilità di ogni singolo individuo anche informarsi, perché se rimaniamo solo al racconto che fanno i TG, rimaniamo in questa dimensione italiana. Fra l'altro i candidati stanno girando parecchio il territorio, quindi magari riuscite ad andarle a vedere, fra l'altro caricano i video dei loro interventi su YouTube, sui loro social, quindi si può vedere come parla un candidato, si può capire se ci convince o no. Fra l'altro, e qui chiudo, ultima annotazione, è vero che abbiamo questo problema di Schlein, Meloni, italiani, eccetera eccetera, che si candidano per prendere voti e poi non vanno, problema per loro, è una scelta legittima. È vero che non è una questione solo italiana, cioè c'era un pezzo sul Corriere della Sera che diceva che era un problema solo italiana, non è vero. Gli spagnoli, i lettoni, i croati, i bulgari fanno lo stesso. Forse in Italia abbiamo una dimensione del fenomeno più grande, però non è un fenomeno solo italiano. Ci sono, e qui di nuovo torniamo all'importanza del voto, ci sono dei partiti che spingono molto per le liste transnazionali, quindi perché le elezioni diventino le elezioni più europee e meno elezioni italiane, francesi, spagnoli, svedesi al Parlamento europeo, di nuovo, se li votate, se siete convinti che questa sia la strada, votate chi sottolinea l'importanza di questa cosa qua. Altra cosa, noi parliamo sempre di affluenza, invito al voto e giustamente facciamo questa campagna. Io sono convinto che questo piccolo passo di far votare gli studenti fuori sede, anche dove studiano e non solo dove risiedono, dove hanno la residenza, sia un piccolo grande passo, ma sono convinto che se noi aprissimo il voto elettronico, se noi dessimo la possibilità anche a chi lavora fuori sede di votare dove lavora e non dove è residente, se noi abbassassimo, come è stata fatta in tanti paesi, sette paesi dell'Unione Europea, il voto ai sedicenni o ai diciassettenni, vedrete che il problema dell'astenzionismo sarebbe l'ultimo problema che noi abbiamo, perché noi votiamo ancora come 50 anni fa, infatti noi a Fanta Sanremo abbiamo dato le matite agli artisti, perché la matita è come noi votiamo, cioè voi immaginatevi per cosa usate la matita nella vostra quotidianità, ecco noi per il voto usiamo la matita, dobbiamo andare al seggio, chiudono le scuole, questo è un punto di vista personale, perché poi come Parlamento non ci occupiamo di queste cose, però la strada è tracciata, cioè il voto degli studenti fuori sede è un piccolo passo e secondo me se ne possono fare tanti altri. Grazie Maurizio. Grazie.